eccoci siamo dal notaio abbiamo appena conclusa la stipula del lato notarile dove morena e giuseppe hanno comprato l'appartamento di anna e stefano chiedo a loro come si sono trovati con elena rughetto comprare indite immobiliari beh che dire è stata davvero una esperienza bella abbiamo fortunatamente grazie alla possibilità di elena venduto in tempi molto brevi siamo molto soddisfatti del servizio che ci ha dato e che dire consigliamo tutti i suoi servizi grazie e invece morena e giuseppe che hanno acquistato come si sono trovati anche noi ci siamo trovati molto bene elena è stata assolutamente seria professionale competente sempre attenta molto disponibile anche nei nostri confronti ci ha aiutato tantissimo e soprattutto ci ha anche supportato tanto anche emotivamente per cui consigliamo 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 bravissima bene grazie io vi auguro veramente a entrambi una nuova vita nella vostra nuova casa grazie a voi grazie ancora